Dopo il nulla di fatto di lunedì scorso, la comunità del Politecnico di Bari torna alle urne per eleggere il rettore che dal primo di ottobre prenderà il posto del dimissionario Nicola Costantino. Ormai si tratta di una competizione a due, tra Vito Albino ed Eugenio Di Sciascio, dopo la rinuncia del terzo candidato Leonardo Damiani. Il suo forfè è stato comunicato nella tarda serata di mercoledì con una lettera inviata agli elettori e formalizzato ieri mattina. Fra i due contendenti in testa c'è Eugenio Di Sciascio, ordinario di Sistemi di Elaborazione dell'Informazione con 153,3 voti. Vito Albino, ordinario di Ingegneria Economico-Gestionale, si è fermato a 101,5 preferenze. Al primo turno, lunedì, l'affluenza è stata massiccia, ha votato quasi il 91% degli aventi diritto. Docenti, rappresentanti degli studenti e personale dirigente tecnico-amministrativo bibliotecario, queste ultime due categorie con voto pesato. Oggi si torna all'urna ed anche stavolta sarà necessaria la maggioranza assoluta dei voti per decretare il nuovo rettore. Seggio aperto fino alle 16 nell'Aula Attilio Alto seguirà subito dopo lo scrutinio.